gildarella nostra che faccio di rimbacetto ciao amori ciao a tutti eccoci qua nella cucina di gilda ci avevo quattro fettine di arista e allora ho detto adesso le faccio in padella col parmigiano e lo spec tipo la bolognese dai solo che io faccio in modo mio perché non è che c'ho tutto va bene va bene eccole qua fettine di arista messe dentro l'uovo sbattuto un uovo un uovo un uovo si sono quattro oggi così il pranzo io è bella mia ecco qua e vabbè allora te verrò dietro una c'è scappa per me certo allora va bene ecco fatto ecco qua ecco qui ecco qua voilà e una è fatta ecco guardate semplice semplice fate proprio presto 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 ecco qua allora io dei pangrattato ci avevo questo un po grossolano è comunque va bene tutto quello che ci avete di pangrattato va bene sì pure il classico perché quando c'è il classico te ecco io questo ci avevo e questo ci metto allora ha messo qualche fiocchetto di burro che adesso faccio sciogliere poi mettiamo le fettine stiamo a fare intacchette gitarrella sì perché se no serviccia tutta ecco qua una ma coceva ecco qua e voilà eccole qua adesso una girata del qua e della è allora io gli ho dato una girata di qua e una della va bene allora adesso mettiamo il parmigiano eccolo qua eh io metto questo qui a scaglietta che ci piace tanto cosa mamma mia ragazzi e goduri a stare cittina adesso metto lo spec ecco qua adesso metto lo spec eh adesso rimetto un po di parmigiano sopra eh ecco qua adesso copro e li lascio cuocere 5 minuti 5-10 minuti va bene? bene bene bene? bene? bene mamma mia ragazzi che goduria pronte? eccole qui eh pronte? eccole qua pronte pronte ecco fatto mamma mia ragà ecco mettiamoci un po' di sughetto un po' di burro un po' di cosa del parmigiano eccole qua pronte guardate che belle e semplici da fare ecco qua allora io il sale l'ho messo nell'uovo quando ho sbattuto l'uovo ho messo anche un po' di sale va bene? va bene guardate che belle buone uno spettacolo come te eccole qua mamma mia ragazzi allora adesso vi mando tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda eccolo qua e vi amo tutti è piatto ricco è piatto ricco mecefico è piatto ricco è piatto